Benvenuti alla video recensione dell'iRobot Roomba 960, un robot aspirapolvere di fascia di prezzo medio alta dal costo di 500-600 euro. Se vi interessa acquistarlo potete trovare il link all'offerta in questa pagina. L'iRobot Roomba 960 viene fornito con la base di ricarica, un muro virtuale completo di batterie, un filtro di ricambio, una spazzolina rotante sostitutiva e il libretto di istruzioni. Sulla confezione è inoltre impresso il codice di registrazione al portale nitalvip.it per attivare il servizio di assistenza iRobot Care Assistance. La prima cosa da fare una volta spacchettato il robot è il collegamento al wifi di casa. Basterà installare l'applicazione iRobot Home disponibile per Android e iOS ed eseguire le semplici istruzioni per il riconoscimento del robot. Con l'app installata abbiamo accesso alle funzionalità complete del robot. Pianificazione delle pulizie settimanali, visualizzazione dei report delle pulizie, impostazione delle preferenze di pulizia e naturalmente avvio messa in pausa o interruzione della pulizia. Nell'ambiente il robot si muove in maniera molto intelligente. La tecnologia V-Slam ma mappa l'ambiente rilevando punti di riferimento attraverso la videocamera, così il robot riesce a mantenere l'orientamento. L'approccio agli ostacoli è morbido e sufficientemente delicato. La loro presenza viene registrata e trasposta nella mappa. La potenza di aspirazione è molto buona per un robot aspirapolvere. Detriti quali le tirapergatti e lenticchie, ben più voluminosi della semplice polvere, vengono aspirati senza sforzo e convogliati nel serbatoio. La prestazione rimane ottima anche sulla moquette, dove passaggi aggiuntivi assicurano la raccolta dei detriti. Per concludere possiamo dire che l'iRobot Roomba 960 sia un robot aspirapolvere efficace ed efficiente, totalmente autonomo per quanto riguarda la ricarica e la navigazione dell'ambiente, controllabile anche da remoto attraverso la sofisticata applicazione mobile. Grazie per averci seguiti, alla prossima! Grazie a tutti!